Lorenzo Capelli, Presidente di Confartigianato Imprese Mantua. Oggi è stata una riunione interessante, di cui abbiamo intravisto opzioni o progetti per quanto riguarda il nostro territorio, di cui le piccole e medie imprese oggi sono molto sensibili. Riteniamo che sia fondamentale proseguire questo percorso di green economy o economia sostenibile. Riteniamo che sia fondamentale e ribadiamo il fatto che sul nostro territorio abbiamo due progetti importanti che vanno in questa direzione. Il primo è le comunità energetiche, che sollecitiamo l'avvio dell'Inter velocemente, e l'Idrogeno Valley, che permetterà alle nostre infrastrutture del territorio di viaggiare con del carburante sostenibile e quindi green e verde. Quindi è importante questo dibattito per confrontarci su queste idee.